è una bella maglietta eh diciamo la verità quella è la cosa meglio io ho fatto il coaching in molte nazioni e mi ricordo prima in Italia abbiamo sei giocatori non avevamo più di quello giocatori in tutto il paese e qui ne ho una quarantina allora sono in paradiso e cosa voglio dirvi qui oggi non guardiamo necessariamente punteggi va bene quelli che pensano che dobbiamo fare punteggio non guardiamo questo quello farà una percentuale va bene i coach tutti i coach che sono qui avranno dei compiti pure loro da fare di seguire un certo numero di giocatori dove noi scriveremo giù quante volte tu sei nel 1 o 3 quante volte sei hai fatto un strike su Brooklyn tutte queste cose qui saranno marcate va bene per spiegarvi a voi abbiamo un foglio così per gli istruttori qui che sono qui qui seguono ok allora ogni voce che tu lanci sarà marcato se sei in pieno dell'1 se sei sul pocket se lasci questo birillo tutto sarà marcato se vai a Brooklyn ok sarà meno 1 pure se fai strike per noi conta per meno 1 non per più 1 va bene allora se tu fai una partita di 250 lo 10 Brooklyn per noi hai come meno 10 vediamo vedere insomma se siete dei giocatori completi perché quello che è proprio che noi vogliamo lavorare il gruppo d'eccellenza da 16 a 20 di quanti giocatori che vogliamo vogliamo un gruppo che potremmo andare avanti perché per noi la squadra più importante l'anno prossimo dobbiamo formare una squadra forte per l'anno prossimo che l'anno prossimo ci saranno 16 nazioni d'europa che andranno al campionato mondiale potetevi la giornata va bene potetevi la giornata dovete partire di qui dire grazie siamo contenti di quello che stiamo facendo qui adesso in Italia va bene ok facciamo tutti i piedi per parlare qualcosa grazie 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 a tutti. 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 Massimo, sarai in contatto con te, c'hai pure Medeo da te, puoi intanto lavorare insieme, e c'hai pure Enrico, vada l'ora, va bene. Tutti questi, ma io voglio vedere pure i tuoi video, così me li puoi mandare.